I bozzetti degli otto carri di categoria A e del carro del Peppe Nappa erano già stati presentati durante la serata conclusiva del carnevale estivo, mancava però l'ufficialità rispetto alle istanze presentate dalle associazioni culturali. Adesso è arrivata la commissione appositamente istituita al comune di Sciacca, ha valutato la documentazione presentata e ha ammesso tutte le proposte. A realizzare il Peppe Nappa 2025 sarà l'associazione Arte e Cultura di Gianni Scerbo con Alberto Venezia, autore del bozzetto. L'associazione Aurora08, presieduta da Riccardo Bellitti, proporrà il carro al cuor non si comanda, il cui bozzetto è di Vincenzo Licata. L'associazione La Nuova Isola, il cui presidente Onofrio Vullo, si presenterà con Equilafrica, autore del bozzetto Gino Conticello. L'associazione Saranno Famosi, presieduta da Paolo Labella, presenterà il carro Il Viaggiatore nel Tempo, bozzetto di Calogero Sant'Angelo. L'associazione Nuove Evoluzioni, il cui presidente Pietro Di Mino, proporrà il carro dal titolo La Più Bella del Reame, autore del bozzetto Francesco Recca. L'associazione La Bomboniera, presieduta da Cursio Di Mino Amato, presenterà il carro Prima o poi a Bocca, bozzetto di Angelo Bonsignore. L'associazione Anima e Cuore, il cui presidente Fabio Catanzaro, si presenterà con Profumo di Zagara, autore del bozzetto Francesco Recca. L'associazione Nuova Arte 96, presieduta da Alessandro Segreto, presenterà il carro allegorico dal titolo Sogna, ragazzo Sogna, bozzetto, in questo caso di Vincenzo Crapanzano. L'associazione La Nuova Avventura, presieduta da Michele Di Mino, proporrà il carro Terra Promessa con bozzetto di Antonio Schittone. Due carri in più rispetto all'edizione 2024 dello scorso febbraio per un carnevale che si svolgerà alla perriera in via Iende in due fine settimana, il 22 e 23 febbraio e poi dal 28 febbraio al 2 marzo. L'amministrazione comunale ha previsto di impegnare 276 mila euro per la realizzazione dei carri allegorici partecipanti alla manifestazione spesa finanziata con l'imposta di soggiorno. Le associazioni culturali dunque possono mettersi già al lavoro in anticipo rispetto al passato quando in questo periodo si attendeva ancora la pubblicazione del bando. Ci sono cinque mesi a disposizione e tutte le premesse, vista la qualità già espressa nell'ultima edizione, per un ulteriore rilancio del carnevale di Sciacca. Quel che ancora manca però è un altro aspetto fondamentale, quello relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione. L'amministrazione sta ancora lavorando al bando per l'affidamento del carnevale che rispetto al passato dovrebbe avere una durata biennale se non addirittura triennale.